FECERO OGNI TIPO DI TORTURA Il corpo stesso, tanto che il sangue usciva dai pori, oltre che dalle ferite. Spegnevano le cicche delle sigarette nelle ferite e nella pelle. E a questa funzione era dibita anche Franca Carità, figlia del capo della banda dei criminali fascisti. Arrivava persino a spegnerci le cicche di serraglio negli organi genitali, con orribile sadismo. Appena entrato dal comandante, vidi l'apparato che dava i brividi. Tutti gli ufficiali erano attorno al tavolo di Carità. Ai lati dello stanzone erano disposti gli scherani. Su un tavolo faceva mostra la triste macchinetta. Mentre uno mi applicava i figli elettrici, gli altri mi schernivano dicendo «Vedi che bella testa tonda da parroco!» e giù pugni. Entrò anche il più sanguinario, lo squilloni, che senza pronunciare sillaba mi assestò a due sonori schiaffi. Io non potevo parlare, perché sussultavo sotto le scosse elettriche. In quel momento, e non potrò perdonare questo supremo atto di vigliaccheria, l'ex prete Gastaldelli disse ironicamente ai suoi degni compagni «Ora gli facciamo dire anche il nome del tipografo!» e mi fece applicare i fili elettrici agli orecchi. Dio solo può perdonare tale raffinata forma di martirio a chi l'ha fatta provare ai poveri sofferenti di Palazzo Giusti. Caddi dalla sedia, lungo disteso, e cominciai a urlare. Man mano che la corrente aumentava d'intensità, avevo l'impressione che al posto della testa avevo una fonte luminosa, sprizzante scintille. E come gli urli diventarono belluini, Carità ordinò che mi si tappasse la bocca. Il che fu fatto. Ma l'ex prete non fu appagato. Il nome del tipografo non fu pronunciato sotto il martirio. Come non era stato pronunciato la notte tra il 30 e il 31 dicembre, dopo sei ore, dico sei, di interrogatorio. Per molti giorni portai segni delle percosse, con un gran livido sotto l'occhio destro. Tuttora, la mano sinistra ha dei tendini accavallati. Effetto dell'applicazione elettrica. La sera del 27 novembre 1944, rientrando in bicicletta da una missione partigiana a Verona, la mia casa era già stata occupata dai fascisti della banda Carità. Mi portarono al comando delle SS tedesche, dove mi interrogò lo stesso Carità. Voleva sapere i nomi dei partigiani e dove si trovavano. Io dicevo no, ma sapevo che in casa avevano trovato abbondante materiale partigiano e anche una bomba. Su di me, inoltre, avevano trovato la lettera di un amico colonnello veronese da consegnare al comando e avevo in tasca anche alcuni documenti compromettenti. La mia posizione, quindi, era evidentemente difficile, ma io negavo e basta. Allora il capitano fascista Antonio Coradeschi mi diede 20 frustate ed io, ben presto, perdetti la sottoveste, che era l'unico indumento che avevo addosso. Lo stesso Carità mi diede 10 frustate, dicendo che le sue valevano il doppio di quelle degli altri. Poi, via via, anche tutti gli altri mi frustarono. Così durò per circa 10 ore, durante le quali, in brevi intervalli, mi facevano assistere alla tortura degli altri compagni. Vidi che picchiavano con spranghe di ferro i piedi di Rino Gruppioni e che gli mettevano mozziconi di sigaretta nelle piaghe dopo averlo frustato. A Tilio Gombia lo torturarono bestialmente, persino con scosse elettriche alla gola e agli organi genitali. Visto che continuavo a negare anche dopo ore di frustate, mi attaccarono i fili elettrici ai pollici delle mani e nelle orecchie e cominciarono a dare le scariche. Si sentiva un dolore immenso. Mi capitava, però, che dopo la tortura mi sentivo ancora più ferma e quando staccavano per chiedermi se mi ero decisa a parlare, io rispondevo sempre di no. E allora continuavano. Così durò fino a che venne giorno.